La postazione è attiva. 15, and if your parents didn't give a shit. 15, and if your parents didn't give a shit. 5, and if your parents didn't give a shit. 5, and if your parents didn't give a shit. 5, and if your parents didn't give a shit. E' un po' di controllo dell'obiettivo, stiamo portando A, stile apprezzando controllo Tanti saluti hot tub it's the best spot to get beat fingers deal uuuh wuuh 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 il nemico è tornato al comando oh ma è vero io prioritario sotto attacco proteggetelo il nostro bersaglio è andato Sì, vediamo. Neutralizzato. La portazione è attiva. La portazione è attiva. Perdo. Ostile eliminato. Postazione attiva. Postazione... Ormai eliminato. Postazione identifica. I nemici... La impatta fuori dal... Versa. RG, Dio, silenzio. L'impa troppi, è stato eliminato. Postazione attiva. Postazione conquistata. I nemici hanno la postazione. I nemici hanno la postazione. RG, Dio, stile in zona. I nemici hanno la postazione. I nemici hanno la postazione. Settine, bro. Attaccano il bersaglio. Attaccano il bersaglio. Versaglio prioritario, nemico in zona. Colpo assegno. Versaglio prioritario sotto attacco. Proteggetelo. Ci annucci. Un nemico. Rimpattuto. Versaglio prioritario sotto attacco. Attaccano il bersaglio. Attaccano il bersaglio. Attaccano il bersaglio. Versaglio prioritario sotto attacco. Proteggetelo. Esatto, cazzo. La. Un nemico. Un nemico. Il mondo cazzo. I push and just sit in the back. Oh my god, I'm blooming! Postazione conquistata! Siete in vantaggio, mantenete, postazione identificata. Uno ucciso.